arriviamo quindi alla prima parte, quella lì l'avevo chiamata parte 0 perché appunto era una slide introduttiva vi do un po' di principi generali della proprietà intellettuale ovviamente visto che questa è una lezione sulla data governance mi soffermerò sugli aspetti più legati ai dati però un minimo di concetti generali su come funziona la proprietà intellettuale li dovete acquisire per evitare appunto di trovarvi in situazioni di fare diciamo grandi ingenuità quando svolgerete la vostra attività allora innanzitutto cosa intendiamo per proprietà intellettuale, diritto d'autore, copyright sono le parole che spesso sentite risuonare nel mondo del web spesso addirittura vengono confuse col piano privacy nel senso che succede a me spesso che mi venga richiesto un corso sulla mi contattano per dire avremmo bisogno di un corso di formazione sulla privacy poi ti mandano l'elenco degli argomenti e vedi che vogliono qualcosa vogliono che gli spieghi come gestire le immagini, come gestire i video e i brani musicali che vengono caricati su un sito e quindi siamo chiaramente nel mondo dell'intellectual property del copyright e non c'entra nulla la privacy oppure viceversa ti chiedono un corso sul copyright e invece alla fine vogliono qualcosa relativo al mondo della protezione dei dati quindi iniziamo a distinguere qui parliamo di proprietà intellettuali in questa prima parte delle slide cioè di quegli istituti giuridici, di quegli insieme di norme che servono per tutelare le forme della creatività umana, per tutelare i frutti della creatività umana le cosiddette opere creative o anche più propriamente chiamate dalla nostra legge opere dell'ingegno di carattere creativo dopo vi faccio vedere una definizione un po' più precisa però adesso, giusto per mettere a fuoco troverete queste tre parole diciamo da qua in poi le possiamo usare quasi come sinonimi quasi come intercambiabili anche se più propriamente dovremmo distinguere ad esempio copyright e diritto d'autore non sono proprio la traduzione l'uno dell'altro cioè anche se in Italia, nel diritto italiano, nel linguaggio italiano si dice diritto d'autore mentre nel mondo anglo-americano, anglosassone di lingua, di matrice anglosassone si parla di copyright come potete notare già dall'etimologia dei due termini non è una traduzione letterale perché uno è diritto d'autore cioè il diritto dell'autore, di colui che crea l'altro è copyright, è il diritto di fare copia ok? che è una cosa diversa come concetto e infatti se andate indietro nella storia anche la matrice storica di queste due parole di questi due istituti giuridici è diversa cioè uno, copyright, figlio della rivoluzione industriale della rivoluzione industriale inglese dei primi 1700, anni del 1700 e quindi serviva proprio per tutelare diciamo appianare dei conflitti sociali ed economici che erano emersi nel mondo della produzione libraria e quindi delle prime forme di produzione industriale di opere creative cioè di realizzazione di copie di opere letterarie sostanzialmente all'epoca non c'erano i dischi non c'erano i DVD non c'era il software e quindi la riproduzione di opere creative era sostanzialmente legata alle opere letterarie i primi libri prodotti con un procedimento industriale e quindi si era creato un conflitto tra coloro che creavano le opere gli autori delle opere e gli stampatori, gli editori ed ecco che arriva il primo atto normativo della storia che parla di copyright che è nel 1710 noi abbiamo invece il diritto d'autore il nostro è figlio del modello francese quindi figlio delle prime leggi repubblicane post rivoluzione francese quindi parliamo dei primi anni del 1792-93 più o meno in quegli anni e con l'espansione napoleonica il modello francese di codificazione civile e quindi anche di diritto d'autore è stato esportato più o meno in tutta l'Europa continentale noi ci siamo stati probabilmente i primi e quindi le nostre prime leggi sul diritto d'autore erano molto vicine, molto ispirate a quelle della Repubblica Francese dell'epoca e quindi noi abbiamo questo modello che si chiama diritto d'autore e tra l'altro, come potete già capire, diritto d'autore è un concetto più ampio rispetto a copyright perché il diritto d'autore prevede tutta una serie di diritti che sono dell'autore della persona che crea che prevedono anche nel nostro ordinamento contengono anche una serie di diritti relativi alla personalità dell'autore alla tutela della reputazione della personalità dell'autore i cosiddetti diritti morali giusto per darvi una distinzione, non arriveremo poi a fare un elenco dei diritti perché non ce la facciamo però poi adesso, al giorno d'oggi, si parla molto di proprietà intellettuale nonostante ci sono queste due matrici storiche perché? Perché poi nel ventesimo secolo dagli anni 80-70 in poi si è iniziato a parlare anche lì prima nei paesi di matrice anglosassone di intellectual property cioè di una sorta di proprietà su qualcosa che però è intellettuale la proprietà classica è quella sui beni materiali o sui beni immobiliari normalmente si parla di beni immobiliari o immobiliari io sono proprietario della mia automobile oppure sono proprietario del mio appartamento della mia casa che è un bene immobile o di un terreno che è un bene immobile quindi quella è la proprietà classica che conosciamo addirittura che abbiamo ereditato quasi pari pari dal diritto romano la proprietà intellettuale cerca di applicare lo stesso concetto di proprietà su qualcosa che invece è immateriale che è intellettuale cioè la creazione quindi un brano musicale un testo letterario una banca dati che è l'esempio che interessa a noi diventano proprietà di qualcuno anche se per loro diciamo vocazione essendo dei beni appunto intellettuali nascono per essere fruiti da tutti cioè io nel momento in cui diffondo un brano musicale attraverso la rete o anche attraverso una radio una televisione diventa un come dire viene quel bene quel bene immateriale quell'opera creativa diventa potenzialmente fruibile da un pubblico indefinito di persone quindi non ne ho non ne ho un controllo come ne avrei su un terreno di mia proprietà o su una casa di mia proprietà dove ho una porta blindata la chiudo e quindi lì ci posso entrare solo io o colui che ha le chiavi ecco la proprietà intellettuale vorrei cercare di portare questo stesso diciamo di fare questa questa similitudine e dire ok troviamo delle norme per rendere per rendere proprietario far diventare proprietario un bene che per sua natura è difficile chiudere dietro una porta o all'interno di una rete o di un cancello allora questa rete questo cancello la creo li creo attraverso dei vincoli giuridici ok delle norme giuridiche motivo per cui adesso noi anche noi che siamo italiane abbiamo importato il termine interlector property e anche da noi adesso si parla di diritto la proprietà intellettuale è un po' un passatemi il termine un po' un polpettone perché vedete se noi parliamo di proprietà intellettuale rischiamo di mettere un po' insieme vari istituti giuridici che in realtà sono molto diversi tra loro noi parleremo più che altro come potete vedere qua di diritto d'autore cioè in una lezione come questa che appunto è mirata alla data governance parleremo un po' di diritto d'autore ma soprattutto di questo diritto sulle banche dati che è quello che vedete qua in alto a destra tutte le altre cose ecco un po' la tutela del know-how quando io prima vi parlavo del del fatto che una semplice informazione non è oggetto di tutela da parte del diritto della proprietà intellettuale mi riferivo a questo nel fatto che l'unico modo è tenerla segreta oppure vincolarla attraverso un accordo un contratto di segretezza però ecco vedete che nell'ambito della proprietà intellettuale ci sono del cosiddetto diritto della proprietà intellettuale ci sono istituti giuridici molto diversi tra loro pensate al marchio il marchio è tutta quella serie di segni di simboli parole che servono per per identificare un'azienda o un prodotto commerciale o un servizio reso da questa azienda per voi che vi occupate di digital marketing è un aspetto interessantissimo c'è una bella lezione sui marchi di un paio d'ore ci starebbe bene perché imparate a gestire appunto il brand sia dei vostri clienti ma anche il vostro nel momento in cui creerete un'azienda una società di consulenza che fa questa attività ad esempio ci sono anche delle norme relative al brevetto per invenzione i brevetti sono tutta una fetta molto importante e molto redditizia del mondo della proprietà intellettuale ci sono i brevetti generano a volte richiedono investimenti da milioni di euro e poi ne generano altrettanti oggi ovviamente vedete in una lezione sulla data governance non ha molto senso parlare di brevetti per un'invenzione industriale perché siamo davvero su un campo molto molto diverso la tutela del design industriale è la stessa cosa il design è la tutela che si applica a quei oggetti a quei prodotti che sono di uso non so come una sedia l'arredo oppure la componentistica delle automobili degli scooter dei motorini delle moto quello è design ha tutta una serie di regole sue separate che sono abbastanza diverse da quelle relative ad esempio al segreto o alla concorrenza generale tra imprese quindi quando noi diciamo proprietà intellettuali dobbiamo sapere stare un po' attenti che è molto generico molto ampio e rischia di mettere insieme in un unico polpettone o nuvolona come ho fatto in questo slide cose che sono abbastanza diverse tra loro noi oggi parleremo più che altro in questa prima parte della nostra lezione di proprietà intellettuale intesa come diritto d'autore ma soprattutto diritto sui dati e forse più propriamente diritto sulle banche dati perché come vi ho già anticipato non c'è una vera tutela sul dato ma vedremo che c'è un diritto d'autore sulla banca dati cioè quando il dato viene quando una massa di dati viene raccolta e organizzata all'interno appunto di un qualcosa di più organico e strutturato che è appunto banca dati allora c'è una titolarità c'è quella che possiamo chiamare proprietà intellettuale sul dato anche se impropriamente il campo d'azione del diritto d'autore è questo quindi ecco la prima norma che vi faccio vedere l'articolo 1 della nostra legge sul diritto d'autore la legge italiana sul diritto d'autore è quella che trovate qua in acqua che trovate qua indicata la legge 6-3-3 del 1941 le leggi normalmente vengono indicate così cioè un numero progressivo un numero diciamo di protocollo e e l'anno in cui è stata approvata il 1941 è l'anno in cui è stata approvata non vi scandalizzi nel senso che è una legge del 41 che però poi è stata più volte aggiornata e quindi non è che abbiamo una legge uguale a se stessa dal 1941 è stata cambiata più volte tant'è che come vedete parla di software e di banche dati però vediamo giusto leggiamola giusto per capire appunto di cosa si occupa in Italia il diritto d'autore sono protette i sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura alla musica alle arti figurative all'architettura al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo la forma d'espressione dice la legge cioè diciamo la norma del 41 si fermava alla parola espressione punto cioè finiva lì e dava in queste quattro righe già un elenco molto ampio delle principali forme in cui si estrinseca la creatività umana letteratura musica arte figurativa architettura teatro cinematografia poi dice qualunque ne sia il modo la forma d'espressione quindi lascia anche una formula si dice formula di apertura cioè ci dice che questo elenco non è un elenco chiuso perché a seconda di come poi queste forme di creatività si esprimono può allargarsi tant'è che quello che succede oggi è esattamente quello cioè noi oggi abbiamo buona parte delle buona parte della fruizione di opere avviene attraverso un unico dispositivo che è il computer o il tablet o il cellulare e attraverso un unico mezzo di comunicazione che è internet ormai vediamo attraverso internet vediamo i film sentiamo la musica fruiamo di opere grafiche e leggiamo testi letterari l'unica che è difficile come dire diffondere attraverso il digitale è l'architettura si l'architettura diffonde l'immagine l'immagine che rappresenta in cui si vede un edificio però poi l'edificio in sé deve stare su un terreno e essere costruito ecco vedete che nella seconda parte della norma però aggiunge la parte sui programmi per il laboratore e le banche di dati cioè nel corso degli anni poi questa norma è stata più volte come vi ho detto aggiornata e negli anni 90 è stato aggiunto questo secondo comma che io vi ho già abbreviato era un po' più lungo e dice che sono altresì protetti i programmi per il laboratore come opere letterarie nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore e quindi software e banche dati cioè altre due nuove forme di creatività necessariamente nuove cioè il legislatore del 41 difficilmente se le poteva immaginare e diciamo non se le poteva immaginare nella forma che noi conosciamo e che sono appunto arrivate negli anni 90 figlie diciamo di due direttive europee figlie della direttiva del 91 relativa al software e di un'altra direttiva del 96 relativa alle banche dati ok quindi vedete che abbiamo diciamo chiuso il cerchio cioè queste sono più o meno tutte le forme della creatività umana c'è un articolo 2 che non vi ho messo nelle slide che sostanzialmente fa un elenco di 10 diverse tipologie di opere cioè prende questo elenco che viene già fatto nell'articolo 1 e lo dettaglia maggiormente scomponendolo in 10 categorie di opere dell'ingegno a noi interessa quella lì in rosso nel senso che vi ho messo in un corso sulla data governance ci interessa capire come il diritto d'autore copia la tua proprietà intellettuale a seconda di come lo vogliamo chiamare si applica e si esercita sulla banca dati su un insieme di dati ecco un altro principio fondamentale del diritto d'autore su cui in realtà c'è molto equivoco e su cui temo che anche voi siate caduti più volte è questo quello secondo cui il diritto d'autore è gratuito ed automatico cioè non ho bisogno io autore io che creo un testo letterario o io che creo un brano musicale non ho bisogno di fare nulla per poter avere il mio diritto d'autore cioè non devo banalmente andare a depositare l'opera in qualche ufficio pubblico alla SIAE o che ne so all'ufficio come succede con i brevetti all'ufficio brevetti per avere il diritto la legge mi riserva tutta la serie dei diritti d'autore della serie dei vari diritti che sono a tutela dell'attività creativa dell'autore nel momento in cui l'opera è creata punto cioè il semplice atto creativo crea il diritto e questo vuol dire implica anche che il diritto d'autore sia gratuito cioè non devo fare nulla non devo andare in un ufficio e pagare una tassa se possiamo dire una tariffa per poter avere questo diritto cioè quindi nel momento in cui io creo l'opera se l'opera è sufficientemente creativa e questo ce lo diceva l'articolo precedente perché dice vedete opera dell'ingegno di carattere creativo cioè chiaramente l'opera deve essere quel minimo deve avere quel minimo di creatività io non posso pensare di vantare un diritto d'autore su qualcosa che è copiato pedissequamente da un'opera preesistente oppure che non ha nessun tipo di creatività non so per fare un brano musicale cosa faccio prendo una base una base dense dalla mia tastiera dal mio sequencer elettronico lo faccio durare tre minuti e dico che quello è un brano musicale no non è sufficiente perché sia un brano musicale perché quella base era una base sintetica standard utilizzata da chiunque cioè chiunque avesse quella tastiera avrebbe fatto lo stesso identico brano quindi non c'è creatività sufficiente per poterlo definire brano musicale e quindi per poter vantare un diritto d'autore ma nel momento in cui io ci aggiungo un giro di accordi una linea melodica e una struttura sintattica dell'opera del brano musicale cioè metto un'introduzione una strofa un ritornello un finale ecco che l'opera comincia ad avere una forma anche rudimentale ma che è sufficientemente creativa per dire che quella roba lì l'ho fatta io e quindi ho un diritto d'autore ok quindi automaticamente l'autore di questo brano e lo possiamo poi fare l'esempio su tutto il resto sulle arti figurative sulla letteratura e via dicendo diventa titolare del diritto capite quindi come cambia molto la prospettiva vuol dire che cosa vuol dire questo vuol dire che la regola è che tutto è sotto copyright tranne ciò che è risponde a qualche eccezione so che questo vi disorienterà perché fino ad oggi probabilmente molti di voi pensavano che se non c'è scritto nulla e un'opera è su internet allora la posso prendere perché questa è la peggiore la più diffusa leggenda metropolitana che circola in materia di diritto d'autore tanto se è su internet vuol dire che si può usare in realtà no perché a parte che anche se è su internet se ci fate caso quasi sempre in fondo alla pagina c'è questo simbolino qui il simbolo che trovate a sinistra copyright la c rovesciata che cosa vuol dire c'è semplicemente quel simbolino lì una funzione informativa cioè di chiarire agli utenti che lì c'è qualcuno che vanta un diritto e che quindi non puoi prendere liberamente liberamente l'opera ecco questo è un po' il concetto e per fortuna anche se poi come vi dirò non è così semplice che succeda a un certo punto questi diritti scadono no cioè questo copyright il diritto d'autore non è eterno a un certo punto si dice che l'opera cade in pubblico dominio perché perché appunto secondo la legge secondo il tipo di opera e dei diritti che vengono esercitati finiscono questi diritti il diritto d'autore quello pieno nel senso pieno del termine dura 70 anni dalla morte dell'autore che è un'eternità come potete immaginare cioè vuol dire dalla morte dell'autore attenzione quindi vuol dire che l'autore è tutelato ha una tutela per tutti gli anni della sua vita e poi altri 70 anni cioè tornando all'esempio del brano musicale l'autore è giovane quindi un diciottenne diciannovenne che che scrive un brano musicale ha poi la tutela da quell'anno lì fino a tutta la sua vita quindi ipotizzando che lui campi fino a 98 anni quindi altri 70 anni di tutela poi nel momento in cui muore da lì altri ancora 70 anni ok quindi diventa quasi un secolo e mezzo diventano 140 anni di tutela ok no da 18 a 98 scusate sono 80 anni più 70 sono 150 anni un secolo e mezzo quindi un diritto d'autore che anche se non è eterno perché la regola cioè tutti gli istituti della proprietà intellettuale sono nati per essere temporanei per durare un lasso di tempo determinato in realtà diventano quasi indeterminati perché poi 150 anni se ci pensate soprattutto su opere che nascono già con una vita breve cioè nascono già per essere per durare pochi anni se io vi chiedo qual è il tormentone il tormentone dance o reggaeton del 2018 neanche quindi dell'anno scorso cioè di due anni fa già non ve lo ricordate qual era eppure ci hanno tirato i cretini per tutta l'estate con un brano musicale che si sentiva ogni tre minuti alle radio nelle tv e via dicendo nei locali quindi quelli che hanno scritto quel brano lo sapevano già che sarebbe durato poco ciò nonostante il loro diritto d'autore scadrà 70 anni dopo la loro morte per fortuna non è così bianca o nera la situazione cioè adesso se voi guardate la slide solamente sul lato arancione vi viene l'angoscia perché dite ma caspita ma allora io non posso fare praticamente più nulla perché c'è sempre un copyright perché se qualcuno se il copyright scatta automaticamente tutto ciò che qualcun altro ha creato ha sempre un diritto è sempre tutelato da un diritto quindi io teoricamente dovrei sempre chiedere il permesso infatti questa è una regola su cui vi vi invito a riflettere cioè quando prendete roba da altri dovete in teoria chiedere il permesso o quantomeno vi dovete interrogare se lui gradisce o meno che venga fatto l'utilizzo che state facendo quindi questa è la regola generale ci spostiamo adesso nel lato blu della slide e in effetti vediamo che già la legge ci ha pensato ad ammorbidire questa situazione binaria questa situazione di acceso spento o tutto tutelato o tutto non tutelato e lo fa attraverso una serie di eccezioni eccezioni di libero utilizzo cioè ci sono situazioni stabilite della legge come vedete nella prima gamba dello schema blu in cui è possibile utilizzare l'opera senza dover chiedere il permesso al titolare dei diritti però vedete che sono comunque eccezioni cioè vengono proprio chiamate se noi leggiamo gli articoli 65 seguenti tutto quel titolo della legge italiana sul diritto d'autore si chiama eccezioni al diritto d'autore vuol dire che la regola cioè sottolinea anche a livello semantico che la regola è che tutto è sotto copyright tranne ciò che ricade in una di queste eccezioni previste dalla legge non riusciamo a vederle perché ripeto richiederebbe una lezione molto più lunga di una giornata intera ci sono i miei corsi online ci sono i miei video se volete approfondire in cui commento le principali norme degli articoli 65 seguenti con le eccezioni un esempio ve lo posso fare a voce è quello sulle fotocopie le fotocopie di libri sono regolamentate da un articolo che è l'articolo 68 e quindi uno di quelli come vedete che spiega che appunto la fotocopia se viene fatta da un museo da una scuola può essere fatta con una certa libertà se rimane comunque all'interno dei servizi quindi dei servizi forniti dalla biblioteca per il proprio scopo interno e servizi interni se invece viene fatta dagli utenti dai comuni utilizzatori di opere cioè se voi vi recate in una copisteria a fare la fotocopia di un libro dovete rispettare il limite del 15% delle pagine immagino che qualche volta vi sia capitato facendo un corso andando a fotocopiare una dispensa un libro di trovare questo cartello che vi avvisava che potete fotocopiarlo ma dovete rispettare il limite del 15% quello è un classico esempio vedete di eccezione cioè in teoria qualsiasi forma di riproduzione di un libro è tutelata e quindi solamente l'editore può dare autorizzazione alle riproduzioni ma se rimango sotto il 15% e la fotocopia per uso personale allora c'è una norma che mi dice che lo posso fare poi ce ne sono tante altre ripeto questo è giusto un esempio per farvi capire come funzionano queste eccezioni c'è però come vedete nell'ultima gamba della slide a destra c'è anche il caso in cui il libero utilizzo è stabilito dal titolare dei diritti cioè il titolare del copyright che può essere l'autore stesso a volte oppure la casa editrice che si è fatta dare i diritti dall'autore e poi ha pubblicato l'opera oppure la casa discografica oppure la software house che ha sviluppato il software la seconda dei casi può decidere di applicare una licenza libera cioè una licenza che stabilisce lei il libero utilizzo cioè comunica agli utilizzatori che a determinate condizioni possono usare liberamente l'opera quindi l'eccezione trova radice non tanto in una norma giuridica ma in un atto contrattuale quello che vi dicevo prima quindi vedete che in alcuni casi è l'aspetto contrattuale il piano contrattuale a intervenire a liberare in questo caso l'opera e il simbolino che ho utilizzato cc sta per creative commons sono le principali cc le licenze creative commons sono le principali licenze che fanno questo mestiere che si occupano di rilasciare le opere in un regime più elastico più libero rispetto a tutti i diritti riservati al copyright al copyright classico dopo vi farò vedere ho delle slide apposta sull'open licensing perché quando parleremo di open data c'è una parte della nostra lezione sull'open data arriveremo a quell'argomento a quell'argomento Grazie.